Il piano di governo del territorio è stato approvato prima di tutto per rispondere a delle nuove normative sia regionali che provinciali. Il nuovo PTR della regione, il PTCP provinciale, era un obbligo a fare un adeguamento a questi nuovi piani. Dopodiché l'obiettivo adesso di fare un piano regolatore è chiaramente di contenere il consumo di suolo. Obiettivo che noi abbiamo raggiunto azzerando tutti gli ambiti di trasformazione che erano previsti nel vecchio piano del 2013. Tutti questi ambiti negli ultimi dieci anni non hanno avuto il minimo interesse a edificare e organizzare qualche intervento. Saremmo comunque disponibili, qualora durante i 60 giorni dell'osservazione arrivasse qualche osservazione per ripristino di tali ambiti, piena disponibilità a reintegrare alcune di queste richieste. Alcune richieste sono state proprio mandate avanti per togliere questi ambiti, per evitare di pagare l'IMU. Quindi c'è stata anche richiesta specifica di questo tipo. C'è stata un po' di polemica in Consiglio Comunale per carenza di documentazione. Documentazione che c'era ma non era stata protocollata. Quindi il Consiglio Comunale è stato rifatto una seconda volta con una riapprovazione perché non era stata protocollata la carta geologica del territorio. Tutta la procedura è stata curata dal progettista Simonetti, stimato professionista, che ha collaborato con noi dal 2021, prima con una rettifica al vecchio PGT e attualmente per la stesura del nuovo piano, cui noi abbiamo dato piena fiducia per competenza e professionalità. Le minoranze sappiamo che hanno contestato qualche modalità procedurale contestando anche la professionalità del tecnico. Chiaramente è il loro pensiero. È stato un tema anche lo Schidom, è stato tirato in ballo, anche se in realtà nel piano il comparto Schidom è previsto, rimane previsto, ma come sappiamo l'accordo di programma che c'era in Regione è decaduto, occorrerà un nuovo accordo di programma e occorrerà una variante ad hoc al PGT qualora l'opera arrivasse e diventasse concreta. Quindi un tema che l'amministrazione vuole tenere calmo, tranquillo, si fa per dire, in vista anche delle prossime elezioni. Assolutamente, io un nuovo accordo di programma in questo momento non me la sento di sposarlo, come ho dichiarato agli operatori. È un tema divisivo, è un tema da campagna elettorale, quindi sono sicuro che la prossima amministrazione, se lo riterrà, accompagnerà gli operatori a un nuovo accordo di programma.